Quindi vediamo un po' nel dettaglio qual è la struttura del corso, quali sono le lezioni, quali sono i moduli che andremo ad affrontare. Dunque, dopo ovviamente il modulo che stiamo facendo in questo momento, che è più introduttivo, entreremo nel vivo dei contenuti. Ci sarà un modulo 2 che riguarda il setup del business e della strategia, quindi riguarderà appunto soprattutto evidenziare quali sono gli obiettivi e il proprio target di riferimento. Questo è fondamentale in qualsiasi business. Poi come gestire o come ottimizzare o creare un profilo da zero e poi come pianificare contenuti efficaci. Questa è una parte in cui molte aziende fanno fatica e dedicheremo parecchio tempo su questo. Il modulo 3, quindi la cintura arancione, sarà tutto sui contenuti e sull'engagement. Vedremo come si generano idee per i propri post di qualsiasi industria, quali sono le tecniche per incrementare l'engagement e provere esattamente che cosa significa. E poi quali sono anche i metodi per controllare l'engagement, che è un'altra cosa fondamentale. L'ultimo modulo, il modulo 4, quindi la cintura verde, vedremo quali sono i metodi per promuovere il proprio account e come controllare le metriche. Quindi ci saranno metodi di promozione gratuita, metodi di promozione a pagamento e poi ovviamente la big picture, quindi come controllare tutto quello che è fondamentale all'interno del proprio account, tutte le metriche importanti. Vedremo poi i dettagli all'interno di ogni modulo.